Amici carissimi, buongiorno a tutti da Nettoca Azzurra e le sue previsioni. Dunque, una giornata che comincia ovviamente con il sole, con questo anticiclone azzuriano, europeo, chiamatelo come volete, ma è in gran spolvero, tanto che ormai andrà a completare l'opera impadronendosi di tutta l'Europa e quindi naturalmente anche delle nostre regioni. Sarà molto attivo principalmente nel nord Italia e poi via via durante l'arco di questa settimana si impadronirà appunto di tutta la paesia italiana, garantendo di fatto un in principio di primavera, anzi con temperature anche da tarda primavera, che non si vedevano appunto da un bel po'. Dunque un anticiclone che garantirà cieli terzi puliti anche grazie alla sua ventilazione pomeridiana dei quadranti nord orientali, che favorirà naturalmente anche un abbassamento di quelli che sono i tassi di umidità normalmente presenti a nostro livello. Una situazione quindi di tempo stabile ovviamente che si perpetuerà almeno e oltre il 25 aprile, garantendo anche un ottimo ponte appunto del 25 aprile. Non si intravedono perturbazioni di rilievo, se non qualche focolaio temporalesco di calore durante il pomeriggio nei prossimi giorni, ma che non sconfineranno appunto sulle alte pianure. Quindi le coste sicuramente sono a riparo da qualsiasi infiltrazione di aria così instabile e fresca. Quindi eccoci finalmente all'inizio di questa buona stagione che speriamo si perpetui a lungo. Ragazzi a tutti buona giornata.